Ecco, vedi, anche quello che emerge dalle nostre conversazioni con il pubblico, e vedo anche i messaggi, c'è una divisione, c'è una spaccatura fra quelle persone che, responsabilmente, a mio parere, richiedono prove delle cose che ci vengono somministrate. Cioè, io non posso bermi tutto quello che tu mi dai. Io voglio vivere in un paese dove sia io che i miei concittadini siano rispettati. E il modo migliore per avere e dare rispetto è quello di avere sempre le prove delle cose che si fanno. Non si può andare a fiducia, altrimenti ci si mette al rischio, si si espone a un rischio enorme che arriva una persona malintenzionata. È come se dicessimo, beh, le porte di casa, i portoni di casa non devono più esistere. Casa non ha più portoni, il portone è sempre aperto. Non c'è la porta aperta, non ci sono porte. Chiunque può entrare senza problemi. Beh, io non credo che noi siamo nella condizione di poter accettare una situazione del genere. Noi abbiamo la nostra porta di casa, anzi, le abbiamo anche blindate. Abbiamo delle grandi aziende che ci fanno le porte blindate. Le chiudiamo a chiave e chiediamo addirittura antifurti. Perché? Perché riteniamo che, fra le tantissime brave persone, esistono anche dei malintenzionati, pochi, ma ci sono, ne basta uno, che potrebbero entrarci in casa. Allora, analogamente, nella vita di tutti i giorni, noi non possiamo credere a tutto quello che ci viene detto. Perché molte persone ci dicono cose giuste, ma altre potrebbero dirci cose sbagliate, perché il bene e il male purtroppo esiste. E a questo non possiamo opporci. È una delle poche cose certe. Esiste il bene, esiste il male. Esistono persone malvagie, esistono persone non malvagie. E questo purtroppo è un dato di fatto che la scienza ancora non riesce a spiegare. Perché accade questo. Però accade. Il fatto che accade, lo sappiamo, è il fatto del perché, non lo sappiamo. Ok, allora. Se noi crediamo ad una qualsiasi cosa, perché l'abbiamo bevuta senza averne una prova, e quindi poi iniziamo a diventare tifosi di quella cosa che noi abbiamo bevuto, ecco qua che l'ingegnere sociale che ha voluto lo scontro ha avuto il suo effetto, ha avuto la sua massima soddisfazione. Cioè quello di metterci gli uni contro gli altri. Ed è così che funziona, caro Francesco. Ed è quello che sta accadendo qui in Italia, soprattutto. Perché qui c'è gente ancora che dice vedi, noi abbiamo meno contagi, ma non è vero. Non è affatto vero. Anche questa storia dei contagi, io guardo i morti, non i contagi. A me dei contagi non interessa. A me interessano le persone che ci lasciano la pelle, caro Francesco. Perché il numero dei contagi è una stronzata. che nasce dai tamponi che ti fanno, da quali sono, a chi li fanno, quanti ne fai, la percentuale. Tutti i numeri che tu puoi costruire sulla base anche del campione che tu prendi. Esiste un campione? No. Ma la scienza e la statistica vuole che ci sia un campione. Adesso avremo il professor Malvezzi che ci parlerà di economia. Si è collegato con noi. Ah, è già corretto. Scusa Valeria, attendi solo un attimo. Ecco, lui ci parlerà di economia, ma nell'economia, così come nella medicina, così come in altre scienze, è la statistica necessita di un reale campione. Non del fatto, fammi i tamponi, chi vi mettete in fila, chi sta bene, non si capisce a chi vengono fatti i tamponi, a chi sta bene, a chi sta male, a chi si presenta, a chi il medico... C'ho mal di gola, va a far tampone, ma scusa, cioè, come si possono fare statistiche sui numeri del genere? A più, quella statistica non la consiglio. Allora, le persone che ci ascoltano dovrebbero capire che i numeri non se li possono bere così. Adesso il professor Malvezzi ci mostrerà slide e numeri che non è che se li ha inventati lui così perché si è alzato al mattino. C'è un team di scienziati dell'economia, di informatori, che hanno studiato su cose reali. C'è un campione, chi ha fatto statistica sa perfettamente, bisogna considerare il campione, il tipo, la varianza, tutta una serie di cose che non vengono considerate nei numeri che vengono sparati su queste cose tutti i giorni nei giornali. La gente crede che Cristo è morto di freddo. Ecco perché noi, qui a Radio Radio, ormai è un periodo di tempo che chiediamo le prove scientifiche, non le chiacchiere. Se qualcuno le ha, si presenti. Ecco.